buon sabato sera a tutti la nuvolosità proprio in queste ore inizia ad essere più consistente le prime precipitazioni sono in atto sulla sardegna e sulle regioni centrali tirreniche durante la notte questo primo impulso perturbato si sposterà sul versante adriatico nella mattinata di domani breve pausa con nuvolosità irregolare ma dal pomeriggio altro impulso perturbato sempre da occidente favorirà altre piogge in buona parte della penisola in abruzzo piogge in serata notte sul settore aquilano poi nelle prime ore del mattino anche su terramano pescarese chietino domani mattina possibili aperture del cielo ma dal pomeriggio altro passaggio perturbato con precipitazioni estese persistenti su tutta la regione il vento continuerà a soffiare con debole intensità di libeccio mentre il mare continuerà ad essere calmo le temperature minime di questa notte saranno comprese tra 10 e 15 gradi mentre le massime della domenica tra 18 e 22 gradi per le previsioni è tutto l'appuntamento con la rubrica meteo e per lunedì mattina un buon weekend da marco